birgitta person santa brigida di svezia birgitta person 1303 1373 santa e profetessa svedese nacque da genitori religiosissimi fin da bambina ebbe singolarissime visioni sposatasi giovanissima ebbe otto figli tra i quali santa caterina di svezia rimasta vedova nel 1344 si dedicò a pratiche ascetiche e riprese ad avere le visioni della fanciullezza gesù le parlava e brigida trascriveva o dettava tutto ciò che udiva nacquero così gli otto volumi di rivelazioni scritti originariamente in svedese e poi in latino dal suo confessore petrus dal vastra fondò l'ordine religioso detto delle brigidine fu santificata da bonifacio nono nel 1391 commento santa brigida e un'altra conferma del misticismo ed insieme della medianità elevata iscriviti al canale